Sesto match della serata, incontro Firecore Rules, categoria 63,5 kg, all'angolo blu, Andrea De Masi! Andrea De Masi! E dall'angolo rosso presentiamo Cristian Del Mastro! Cristian Del Mastro! The final countdown che di solito arriva sempre un po' più in là nella serata, lo ritroviamo al sesto incontro come Team Song per Cristian Del Mastro, un'atleta che lotterà all'angolo rosso, Firecore Rules! Il match lo vedrà opposto ad Andrea De Masi! Eccisive saranno probabilmente le prime fasi di questo confronto, potreste dire voi come spesso accade, però in realtà quando ci sono due atleti che si assomigliano molto fisicamente, uno giocoforza deve comunque prendere il sopravvento, deve comunque prendere le redini dell'incontro, anche subendo magari qualche colpo in più, quindi bisognerà anche capire chi sarà il leader di questo sesto confronto e del quadrato e lo scopriremo a sensazione tra pochissimo quando i due atleti si salutano in mezzo al quadrato e agli ordini di Raffaele Girardi, arbitro della contesa, sono pronti a cominciare! Via al gong! Il match comincia di confronto con il primo tentativo di Del Mastro, parato molto bene e risposta subito di De Masi. Entrambi si studiano ancora però è molto veloce la risposta da parte di De Masi che rimane in piedi e rimane molto eretto nonostante la parata e la risposta tempestiva. I due poi si abbracciano alle corde però partenza subito serratissima dell'incontro. L'incontro che ha dimenticato un po' la fase di studio perché i due combattenti sono partiti molto forti, ora gran bella spazzata di Del Mastro che trova il primo atterramento dell'incontro. Spazzata che chiaramente non comporta un conteggio da parte dell'arbitro, ricordiamo anche che possono essere tre sufficienti a ripresa per convincere, in realtà da regolamento permettere all'arbitro di chiamare il knockout, quattro nel corso di un match intero. Adesso si incrociano i calci dei due lotatori, nessuno però va veramente a segno, qui cerca di spostare la guardia De Masi ed entrare con il jab destro. Non ha di fatto però anche per quanto riguarda questo tentativo di clinch, vediamo che il clinch è molto diverso dalla presa dell'orso, quella che poi cinghia tutto il busto. E di fatto crea un impedimento all'avversario che la subisce. Sarà interessante ora vedere quanto usufruiranno dei clinch i due lottatori che sono partiti molto forti e quindi avranno poi forse un calo, forse li sto sottostimando dal punto di vista aerobico, però potrebbero avere un calo e quindi giocare l'incontro anche da quel punto di vista. De Masi che sta cercando di entrare anche spesso con il frontale, di difesa sì però sempre, spesso e anche volentieri alla base dell'addominale come in questo caso. Stavolta lo alza un po' il target cercando di colpire in pieno petto l'avversario che si copre molto bene anche se adesso De Masi subisce una serie di ginocchiate che chiudono il primo round. Molto attivo questo incontro, zero fase di studio, molto divertimento. Attenzione urgente, l'atleta Rovelli Paolo, Rovelli Paolo e lo spogliatoio, grazie. A fare il loro gioco, a cercare quantomeno di fare il loro gioco, a trovare a mettere sotto la questione a una ventana, perché la risposta è arrivata a fare in caso di questa altra e tanta aggressività, che hanno ovviamente provato all'unistacolo. E ora vediamo quali saranno soprattutto i consigli agli angoli rispettivi per cercare di dare, come dire, una svolta a questo incontro. Forse la più importante è dare un colpo di spugna a questo, nel primo round, e trovare a costruire un altro tipo di match al secondo. Andrea De Masi che lotta a proposito per la combat sport di Moncalieri, Christian Del Mastro invece potremmo quasi identificarlo mentre comincia il secondo round, come atleta di casa se vogliamo, perché è seguito da coach Barbuto a sua volta, quindi Thai Box, Torino per Del Mastro che riesce in allungamento, indietreggiando, mi è arrivata a evitare una serie di colpi da box da parte di De Masi, e poi ancora il frontale parato, però come vi dicevamo, in maniera non regolare, perché la presa statica del piede non è consentita, se non seguita immediatamente da un colpo offensivo e di efficacia, o almeno tentativo di efficacia da parte di chi effettivamente riesce a completare la presa. Si qui De Masi è addirittura caduto, l'impressione è che stia subendo un po' più l'iniziativa del suo avversario in questo secondo round, De Masi, perché non riesce bene a riorganizzarsi dopo aver respinto le iniziative di Del Mastro. Ancora molta box da parte di De Masi, poi si rifugia nel clinch, è subito rotto perché era un clinch statico, però sembra Del Mastro molto più attivo e sappiamo come a parità di altri componenti l'attività o il tentativo di essere sempre più offensivi sia una delle prerogative che poi condiziona tantissimo la decisione finale ai punti. Ancora Del Mastro, un altro frontale, è sempre molto distante De Masi che deve subire anche il jab sinistro. Sì, abbiamo parlato di fisici molto simili, forse sta approfittando di qualche centimetro di vantaggio, soprattutto dal punto di vista della portata, Cristiano Del Mastro che con questo schema, utilizzando spesso la variazione alto-basso, riesce a tenere a distanza De Masi, a stroncare sul nascere le sue iniziative. Leve più lunghe e colpi anche, se vogliamo, più eleganti da parte di Del Mastro che chiude in attacco il secondo round. Ce ne sarà un altro per questa categoria che tocca i 63,5 kg, non di più, chiaramente. Fight Code Rules che continua e continua sul filo dell'equilibrio però. Fino sul filo dell'equilibrio, anche se non è stato diverso, abbiamo visto De Masi con strette posizioni più difficili, ma come abbiamo visto prima, questo non vuol dire, certo, che stai subendo in questo posizio, è stato bellissimo, è una amica che ci offre il nostro Marco Tiretto. Ho detto a Magrù lo sforzo, ho detto, per presentarmi un prodotto fantastico in questo De Masi, anche al di fuori del ring, dove già la qualità è altissima, lo ve lo assicuriamo, è stato fatto ovviamente in tutti i sensi a 360, grazie. E abbiamo modo anche di ringraziare a più riprese durante la cronaca tutto il team che ha lavorato la produzione di questo evento, mentre siamo tornati. In mezzo al quadrato, terzo round, che comincia fondamentalmente come era finito il secondo, ma anche il primo se vogliamo, con Del Mastro sempre in attacco e il primo conteggio, esatto. Probabilmente coperti un po' dalla nostra visuale dall'angolo blu, deve essere entrato molto bene Del Mastro, perché è una serie di colpi da box pura. Sì, è entrato molto bene e poi forse inizia a sentirsi il peso di due round, con numerosi colpi alla fine andati a bersaglio, evidentemente con una certa precisione. E sappiamo anche come basti anche solo un conteggio a creare qualche punto di vantaggio, per quella che sarà poi la decisione finale. Ancora una volta Del Mastro, adesso può effettivamente giocare un po' di più col cronometro, ma sembra volere ancora entrare nella guardia avversaria che, a rigore di logica e a rigore di quello che abbiamo visto finora, Daniele, non è mai stata troppo alta e troppo chiusa. Sì, assolutamente, deve essere una strada da sfruttare, ancora entra bene Del Mastro. E poi sai, sicuro non sei mai di cosa pensano i giudici, quindi voglio continuare a fargli vedere che è il controllo del match, se evidentemente te lo senti, e continuare a far capire che sei l'atleta migliore sul quadrato. Stavolta Del Mastro deve concedere un colpo in entrata a De Masi, lo schianto sul jab destro dell'avversario con il caschetto, poi il tentativo di proiezione chiaramente regolare. Adesso Del Mastro prova a recuperare un po' di terreno all'angolo rosso, il suo, con una serie di ginocchiate, tutte parate però. Sì, una buona guardia attiva, intelligente e molto molto attenzione qua, mai girarsi, mai girarsi, protect yourself all time. Mai girarsi e chiaramente il colpo poi portato e assestato in quella situazione è regolare, perché è l'avversario che si è girato e non tu che hai approfittato di un suo momento di distrazione. si ferma la contesa perché arriva il gong finale che sancisce, effettivamente la fine dell'incontro. Non l'avevano sentito i due, allora l'arbitro Raffaello Girardi è stato consapevole a parte della pietra. Volevano andare avanti, stavano l'interno, però si sia Cristian del Mastro, l'arbitro è l'arbitro è l'arbitro di scegliere un giudice, ma vai giudici. Vai giudici e come al solito ad informarci di quello che sarà, di quello che è stato deciso, sarà il nostro speaker ufficiale Simone Casano. Chiaramente anche in questa situazione non è molto facile potersi addentrare nel verdetto e allora lasciamo che a decidere siano chiaramente, come sempre, i giudici senza esporci troppo. Un po' di suspense. E vinci l'incontro, a maggioranza, all'angolo rosso, Cristian del Mastro! A maggioranza quindi non è stata una scelta neanche troppo semplice e un po' l'avevamo intuito anche dal tempo di arrivo del verdetto. Esatto, maggiori di chi decisono è preferito, è stretto di decisione, insomma. Decisione non unanime, a dimostrazione che l'incontro, come ci aspettavamo e come abbiamo visto, è stato molto equilibrato, complimenti entrambi.